Agenti di Polizia Municipale coordinati dal Comandante Giuseppe Montana hanno eseguito controlli presso un negozio di abbigliamento, calzature e accessori gestito da un cittadino cinese lungo la strada statale 117. L'attività, che si estende su una superficie di 400 metri quadrati, è risultata priva di qualsiasi autorizzazione. La Polizia Municipale ha così sequestrato il negozio e combinato al titolare un verbale di 3.000 euro, il Comandante Giuseppe Montana. L'operazione di polizia non aria che sono state contotte nei giorni scorsi hanno portato non solo a controllare i soliti ambulanti abusivi che troviamo sulle strade delle cittadine, ma hanno portato a controllare diversi esercizi commerciali a posto fisso. Ciò ha determinato numerosi verbali per quanto riguarda l'occupazione abusiva di suolo pubblico, ma ha determinato caso eclatante anche la scoperta di un quasi centro commerciale totalmente abusivo. Si tratta di un negozio di 400 metri quadrati adibito alla vendita di prodotti di pellame, pelletterie in particolare, tipo scarpe, borse e così via. Bene, è stato scoperto che questo intero negozio, ripeto, 400 metri quadrati, era primo di qualsiasi autorizzazione. E peraltro era addossato ad un altro negozio che invece era autorizzato. In pratica i gestori, facendo affidamento su quella parte del negozio che era autorizzato, avevano cercato di eludere i rigori della legge e hanno aperto un'altra campata di 400 metri quadrati abusivamente. Ciò ha portato in primo luogo al sequestro dell'intero edificio e al sequestro di tutto ciò che c'era all'interno, quindi di tutti i prodotti posti in vendita, con la posizione dei sigilli. È chiaro che si tratta di un'operazione di polizia non aria che si inquadra in tutto quello che è stato fatto di recente dalla Polizia Municipale e anche unitamente ai carabinieri di Gela, che ha portato a diversi controlli, tra cui anche l'ultimo controllo effettuato al mercato settimanale e il penultimo effettuato al mercato via Madonna del Rosario e tutti i controlli effettuati lungo le strade cittadine.